Vediamoci che le cose parlano a buon fine e in ogni caso confermiamo che le banche devono esprimere il loro parere. Vediamo che sia una fase abbastanza delicata. Anche loro hanno le loro regole, i loro bilanci e i loro controlli e devono seguire agli occhi delle banche un mercato difficile.